Le vertenze della ex Male di Potenza ed Eurodor di Tito Scalo sono state oggetto di una serie di incontri che si sono svolti al Dipartimento regionale alle attività produttive. Erano presenti i rappresentanti della Task Force regionale per l'occupazione, referenti di Confindustria e delle sigle sindacali. Dal tavolo sulla vicenda Male, ditta che produceva cilindri e pistoni per motori, è emerso che potrà essere concessa la mobilità in deroga ai 25 ex dipendenti poiché è in atto il processo di reindustrializzazione del sito potentino dismesso. Per quanto riguarda invece gli oltre 30 ex lavoratori della Eurodor, azienda di Tito Scalo che realizzava porte di infissi, la cui mobilità ordinaria è in scadenza, non sarà possibile riconoscere la cassa integrazione in deroga agli stessi ex dipendenti a causa della mancanza dei piani di ricollocazione elaborati dall'attuale proprietà.